Mimmo Candito, grazie di essere qui, grazie che dobbiamo dire di te, che sei giornalista, che sei scrittore, che sei calabrese ma adottato dal nord fin da ragazzo, prima a Genova e poi a Torino, che sei inviato speciale, commentatore di politica internazionale per il quotidiano La Stampa, con una fedeltà ormai rara a questa testata, ho detto prima che la tua è una vita da film o da romanzo e quello che hai appena scritto è un libro reportage più che un romanzo, un reportage come accennavo su due fronti appunto, quello delle tante guerre che tu hai attraversato e vissuto, che hai raccontato e quello della tua personale malattia, da dove cominciamo? Cominciamo dalla parola tumore che tu hai detto che non bisogna avere paura di pronunciare? Sì, perché no, anzi ci tengo proprio, quasi se mi avessi detto prima cosa vuoi scegliere forse avrei scelto quella parola perché tutto nasce sostanzialmente dalla rabbia che mi faceva quando incontravo gli amici e mi dicevano come stai, come si dice fra amici e dicevano sì, sto bene, ho un tumore ma sto bene, a sentire le parole ho un tumore, tutti abbassavano gli occhi e si mettevano quasi in una condizione circospetta, come se fossero di fronte a un morto vivente. Tu non l'avevi mai fatto con amici? No, 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 cerco perché le parole non mi fanno paura, io non voglio adesso ricordare le manzoni, il manzoni dei nostri studi che le parole sono pure accidenti, però sono una chiave per leggere autenticamente la realtà, questo io do alle parole questo senso molto forte e quindi anche quando scrivo, faccio il mio lavoro di giornalista, le parole sono autenticamente la possibilità di entrare in un rapporto diretto con la realtà, allora perché aver paura della parola tumore? Tumore è una malattia, è una malattia come tutte le altre malattie, gli accidenti delle malattie si possono affrontare con delle terapie, talvolta si riesce a superarle, talvolta no, ma è una malattia, non è il brutto male, quasi una visione apocalittica e dire anche metafisica, come se fosse il male con la M in maiuscola, di cui tu ti devi vergognare. Avevo notato che tutte le famiglie dove ci sono degli ammalati di tumore parlano del tumore, del cancro come qualcosa di cui vergognarsi, ma perché per Bacco? Non è il male assoluto, è un accidenti che capita talvolta nel corso della vita e che bisogna avere la forza di affrontare, ma soprattutto dal nome, con il nome, cioè dargli un'identità precisa in modo che questo abbia una sua connotazione con la qualità. Come faceva la Fallaci, che lo malediva, che ci dialogava insultandolo. Una delle ultime volte ci siamo viste, adesso lei è morta da tanti anni giù a New York, eravamo sulla quinta con la venticinquesima, c'è un mercato dell'antiquariato e lei come me era interessata, ci siamo incontrati casualmente e abbiamo visto una vecchia macchina per scrivere, ma una vecchissima, ed eravamo entrambi interessati, poi ovviamente lei ha ceduto a lei di acquistarla, però lei faceva un po' di fatica e gliel'ho portata a casa, lei aveva un townhouse lì vicino e abbiamo chiacchierato e parlava, lei era già ammalata di tumore e parlavamo di questo, sostanzialmente della capacità di accettare qualcosa che ti viene dalla realtà e quello qui ti deve misurare, non aver paura né angoscia. Senti Mimmo, domenico in realtà, ma Mimmo da sempre, come Modugno, tu ti sei trovato davanti alle morte possibili parecchie volte, le hai rischiate non per imprudenza, ma per una fedeltà al mestiere, alla passione e alla voglia di raccontare, c'è una certa differenza però tra affrontare la morte in una camera sterile, asettica di un ospedale o invece nascosto contro un muro sbrecciato? Sì, ci ho pensato molte volte a questo, la morte che senza alcuna retorica, che in qualche misura tu ti trovi a incontrare lungo la strada del tuo lavoro, del tuo mestiere, è una morte che ha in sé una sua indeterminatezza, è qualcosa di astratto, possibile ma astratto. Quando tu ti trovi invece un lettino ad ospedale e arriva un signore in camice bianco e ti dice gentile signore, lei effettivamente ha un tumore, il suo tumore è inasportabile, lei non ha speranze di vita, mi dà la mano e se ne va, mi sono trovato all'improvviso dentro la morte, non era più l'ipotesi della morte, io ero già morto, vivevo, avevo la mia vita ma ero già morto e il primo pensiero che ho avuto, lo dico e credo di averlo scritto anche nel libro, come faccio a dirlo a Marinella? A tua moglie. Perché a mia moglie, perché quando parto in guerra, io come tutti i colleghi naturalmente, cerco di lasciare a casa tutto in ordine, i vestiti, i libri, le bollette da pagare, perché? Perché sicuramente tornerò, sicuramente, però possiamo anche morire. Allora non voglio lasciare a Marinella anche questo peso, non soltanto del dolore che le ho procurato, ma di dover frugare fra le carte per cercare di mettere a posto un po' tutto. Ecco, allora questo, il pensiero che mi trovo improvvisamente dentro la morte, perché quel signore mi aveva detto, lei non ha speranze di vita, mi faceva immaginare e adesso, come devo improvvisare, non devo ordinare tutto, come devo improvvisare questo mio rapporto con la morte, come faccio a dirlo a Marinella? Ed è qui che voglio arrivare al titolo, solo adesso di questo libro, perché l'eroismo nell'affrontare situazioni imprevedibili, ma che ti capitano addosso è un conto, ed è quello dell'avventuriero, è quello di Hemingway appunto, che ti ha dato la passione di fare questo mestiere. È un eroismo ben diverso quello di stare davanti a una malattia così, però è racchiuso in questo titolo che è 55 vasche. Ci spieghi perché questo titolo è perché è la svolta, la possibilità di vincere? Ma io credo che quel titolo che è stato scelto dall'editore, devo dire, da Rizzoli, è una sorta di puntamento simbolico su un atto fortemente connotativo, cioè un atto, un comportamento che dà un'identità reale. Perché 55 vasche? Perché mi trovavo a Cuba, a Miami, per fare un'inchiesta sui cubano-americani, cioè i cubani che hanno scappato dal regime di Castro e siano rifugiati, sono più di un milione ormai, siano rifugiati in Florida, soprattutto a Miami. Quindi facevo un po' di vacanze, però ho detto al giornale faccio anche questa inchiesta. Abitavo in un piccolo appartamento che avevo in un ufficio, avevo una grande piscina a 33 metri, piscina quindi regolare. E tutte le mattine, io ho fatto sempre sport, devo dire che con orgoglio posso dirlo, sono stato vice campione italiano di Uniones di Sciabola, che ho fatto parte di un nazionale di palacanestro, che ho avuto dei record di salto lungo e salto triplo. Quindi mi sono sentito, posso dirlo, da ragazzo mi sembrava che fosse impossibile vivere senza lo sport. Per me quello che contava era avere un'attività, realizzarmi in un'attività che era la misura delle cose difficili. Credo di raccontare anche un episodio in quel libro, cioè il concetto della sfida possibile, di ciò che è possibile, rispettando gli altri, però nel tentativo anche di essere superiore, se ci riesco. Se non ci riesco rispetto chi è più bravo di me, però voglio provarmi. Quanto più è difficile, di tanto la cosa mi interessa. Fatto sempre così anche con i tuoi colleghi inviati, cercando non di fregare, è una parola brutta, ma se è possibile di arrivare a raccontare prima di loro. Al contrario, devo dire anche su questo sono, loro alcuni mi chiamano il maestro, per affetto e anche per prendermi un po' per i fondelli naturalmente. Perché? Perché credo di essere, posso dirlo, dovrei avere un pudore a dirlo, fortemente generoso. La vita mi ha dato tanto, mi ha fatto tanto felice, mi ha fatto alto, capace di muovermi come voglio, di avere un mestiere straordinario, di incontrare milioni di persone che lottano per la vita, però ti comunicano qualcosa, ti insegnano qualcosa. E questa fortuna in qualche misura ho voluto sempre ripagarla. E allora i colleghi sanno che quando vengono da me, tutte le notizie che ho io le ho dato tutte, perché ciò che mi fa più bravo non è il possesso delle notizie, è la qualità del racconto che io faccio. Quindi se abbiamo tutte le stesse notizie, io mi misuro con gli altri, perché ho la presunzione di immaginare che la qualità del mio racconto aggiunga qualcosa al possesso delle informazioni. Senti, le 55 vasche significano che tu che di solito ne facevi 25 tutte le mattine. Io ne facevo, sì. Quando il medico ti ha detto, va bene, lei ha un tumore, ma proviamo un protocollo speciale e vediamo se alla fine si può fare abbatterla, ma lei non cambi il suo stile di vita? Con la chemio lo stile di vita uno deve cambiare per forza, invece tu di vasche ne hai volute fare più del doppio. Sì, per sfidare te stesso? Sì, per riaffermare una capacità di intervento nella misura del reale. Insomma, io quando ho iniziato quel giorno, c'è stato un giorno in cui la sessione di chemioterapia era stata particolarmente pesante. La chemioterapia è una roba dannata che fa veramente molto male. Però dovevo fare quelle 25 vasche che facevo ogni giorno, mezz'ora di nuoto. Per cui scesi in piscina, nonostante che stessi molto male, cominciai a nuotare, feci dieci vasche, lo ricordo ancora, alla undicesima avevo grosse difficoltà, quasi non ce la facevo. Feci la dodicesima, però annegavo. Mi sono dovuto attaccare alla scaletta, prendo un po' di fiato e mi sono steso sul lettino. Non c'era nessuno. In una piscina grande non c'era proprio nessuno. Pensai, ho perso. Sono sconfitto dalle cose che non posso tenere sotto controllo. E però in quel momento mi venne da pensare a tutte le condizioni critiche che avevo superato, l'Afghanistan, la Somalia, l'Iraq, l'Iran, tutti gli accidenti di guerra in cui mi ero trovato, i cecchini che mi pontavano, le cannonate mi cadevano addosso. E ne ero uscito con la consapevolezza di una capacità di gestire l'impossibile al di là della mia stessa immaginazione. E quello mi fece, io credo poi, lo CPSX post, come a tanti atleti ai quali gli psicologi della squadra, del team, consigliano il training autogeno. Si mettono la testa alle cuffie, nelle cuffie ci scrive tu sei il più bravo di tutto, ogni tiro tu fai, tu fai il gol, tu superi tutto. E le queste si convincono con questa roba di ripetizione che davvero sono i migliori. Allora l'idea dell'Afghanistan, la Somalia, l'Iraq, di tutte le cose che ho visto e fatto, in qualche misura mi ha dato una nuova forza. Sono sceso in piscina, ho detto ci debbo riprovare, sono arrivato a 25 vasche, ma come tu dicevi ho detto eh no, adesso ti faccio vedere io. Vabbè. Ho continuato e sono arrivato. Ah, dell'incredibile. 55 vasche sono un'ora e cinque minuti, quando sono uscito ho guardato l'orologio e ho detto a me il fiato manca dopo cinque, ma insomma la forza d'animo, l'abitudine al rischio anche. Questo conta, lo stavi dicendo. E anche la solidarietà, sono state queste le chiavi, no? Tu hai degli amici veri. Sì, certo, la solidarietà. La solidarietà è un legame con la realtà che mi ha porto sempre dentro, proprio per questa sorta di debito che ho verso la vita. La vita mi ha dato tantissimo rispetto a tanti altri che hanno avuto poco o nulla. E come posso ripagarla? Posso ripagarla soltanto cercando di ricostituire con gli altri un rapporto di empatia autentica. Capuscinski dicevo, noi abbiamo scelto, noi corrispondenti abbiamo scelto di fare questo lavoro perché sentiamo più degli altri il problema della sofferenza degli uomini. Abbiamo una capacità di realizzazione empatica del nostro rapporto con gli altri e questo è il principio della solidarietà di fronte alla sofferenza. Sentivamo forte l'impegno sociale che accompagna questo mestiere. Ecco sì, quando qualcuno ti muore davanti, un disgraziato, un poveraccio lì nel Congo che… lì non era la guerra, era finita, lì era un disgraziato fra i tanti che erano scappati fuori dopo il massacro di Uruguay. Steso, abbandonato agli altri, un milione di persone che va via, un milione di persone e tu risali per cercare di capire dove sono, qual è la radice di questo movimento e all'emprevviso dove è stata questo uomo steso, che è uomo soltanto perché ha la carne dell'uomo, ha consumato completamente, era lì abbandonato, cerco di parlargli un attimo, non reagisce molto, mi accorgo che è morto, scappo, vado in macchina a prendere una banana, la apro e cerco di metterla in bocca per in bocca, lui non ce la fa, allora prendo la borraccia e cerco di fargli bere qualcosa e all'improvviso vedo che gli occhi mi hanno abbandonato, cioè lui è morto con me. Allora di fronte a questo come puoi non provare un fortissimo senso di solidarietà, di compartecipazione a ciò che significa quella linea sottile che separa la vita dalla morte? Sei dentro, tu vivi, però la morte è con te. Senti, ti cito, chi ha un tumore sa che il proprio futuro viverà sempre di a te. Perché non deve essere così per tutti? Forse sì, però è un'attesa drammatica, tu nell'attesa hai qualsiasi possibilità davanti a te, non hai determinazione, chi ha avuto il tumore sa che il tumore lo accompagnerà ancora, io l'ho scoperto, non sapevo, dopo il primo tumore io ne ho avuto un secondo, all'inizio dell'anno scorso, mi hanno portato via questo polmone, era difficile portare via l'obbo di questo polmone, hanno fatto una tecnica, una radioterapia stereotassica e per ora l'ha distrutto, però ogni tre mesi devo fare controllo e so che può tornare, quindi so che nel mio futuro c'è quel rapporto con questa ipotesi della morte, che però torna a essere non più il tumore, ma lo stesso rapporto con la morte che ho quando vado in guerra, c'è un'ipotesi astratta che può diventare autentica, ma con la quale tu ti misuri, perché quando il medico, come dice l'oncologo per la prima volta, lei non ha speranze di vita e la moglie, sono già morto, so, accetto questo perché ha fatto parte sempre del mio lavoro, ho superato la linea che divide morte e vita, ci sono stato dentro, però quando poi lui torna, sollecitato da amici a dire, va bene faremo il possibile, tenteremo incontrare, scatta altro, lui mi dice 0,0 speranza, però fra il non c'è nulla e c'è lo 0,0, c'è un percorso, c'è un'ipotesi sulla quale io posso lavorare, allora lì trovo la mia capacità. Senti, tu hai dedicato parole di rispettosa e tenera ammirazione per tua moglie, Marinella, per come ti è stata vicina, con coraggio e dici che lei ha pregato per te, tu hai mai pregato per te? Mi è difficile dare un'identità precisa alla parola preghiera, io ho sempre sperato, qualche volta orgogliosamente, qualche volta con arroganza e con superbia, di poter dare qualcosa in ciò che faccio agli altri e anzitutto a Marinella, allora se la preghiera c'è stata e era la speranza di poter autenticamente dare qualcosa ad altri e a Marinella, se la preghiera significa rivolgersi a qualcuno chiedendo attenzione, chiedendo una risposta, forse in questi termini l'ho fatta forse senza volerlo, però a questo proposito voglio ricordare una cosa che credo sia, per me è stata molto importante, credo sia davvero il più grande premio giornalistico che abbia ricevuto, tornando una volta da una guerra non so quale, trovai nella buche della posta che abbiamo al giornale, trovai un busta gialla con dentro evidentemente un libro o qualcosa di simile, l'apri, in effetti c'è un'altra busta con una lettera e un libro, guardai la lettera, c'era un messaggio di una signora di cui non ricordo il nome, che diceva da ciò che lei scrive si vede che lei si sente, si legge che lei non è credente, però si sente che c'è una forte dose di, una straordinaria dose di umanità, di partecipazione umana, io la prego di leggere questo, lo regalo questo libro, sono sicuro che l'aiuterà, il libro è nei Vangeli ed è un regalo che ho apprezzato moltissimo, vuol dire che si può anche credere senza necessariamente essere all'interno di un percorso di fede fissato da termini stabiliti e si può anche pregare senza pregare e se gli altri lo capiscono, vuol dire che tu hai fatto davvero un buon lavoro, vuol dire che davvero hai dato di te ciò che tu sei. Senti Mimmo, il mondo in questa guerra a pezzi, come dice il Papa, tu continui a raccontarlo per efficacemente, a muoversi, andare a guardare queste transizioni pericolose che soprattutto in Medio Oriente dovrebbero essere sotto gli occhi di tutti, il pericolo più grande che senti a pelle qual è? Da dove arriva? Che non siamo capaci di rispondere alla sfida, che chiusi nel nostro sguardo rivolto un po' all'indietro, ma soprattutto attento a curare ciò che noi abbiamo, non ci rendiamo conto che significa che il mondo cambia, non ci rendiamo conto che una rivoluzione, rivoluzione quindi un cambiamento parigenetico è autenticamente in atto, che questa migrazione biblica, non tornerà indietro e allora noi dobbiamo avere la forza di saper rispondere con la qualità della nostra vita e delle nostre scelte alla sfida che ci viene posta. Finora mi pare che questo non sia accaduto. La sfida dove arriva? La chiami Isis oppure sono i maneggi di alcuni stati canaglia? La sfida ce la pongono questi poveri uomini e donne, devo dirti che ancora mi accade, forse lo dico con un po' di pudore, ma quando vedo, vedevo ultimamente nello schermo in televisione, il dolore di un uomo che si rotolava per terra, quando salvatosi lui, arrivato sulla terra, gli viene detto che il figlio è morto e annegato e mi emozionava, ancora mi emoziona. Il dolore degli uomini non può restare insensibile. Questi disgraziati fanno dei percorsi di cui non possiamo nemmeno immaginare la drammaticità, la pesantezza. Io che ho vissuto in guerra so cosa significa vivere al di fuori dei conforti della vita che abbiamo noi e quanto tu devi affrontare di sacrifici e di dolori, dobbiamo avere tutti consapevolezza di questo, rispettarli come persone, non sono soltanto numili, non sono soltanto altri da noi, siriani o eritrei che siano, o afghani, sono uomini e donne, spesso ce ne dimentichiamo, anche perché la quantità, il numero spesso riduce la qualità della comunicazione. Senti, tu sei presidente dal 99 di Reporter Saint Frontier e tu tra i molti amici, compagni di strada, solo sfiorati o perduti parecchie volte, fai notare anche nel tuo libro una sorta di rimpianto per un mestiere trasformato radicalmente dalla tecnologia elettronica, è ancora giornalismo questo? Me lo chiedo io e ce lo chiediamo tanti di voi se questo sia giornalismo, se il giornalismo è il progetto di raccontare la realtà perché questo produca conoscenza, allora siamo in una condizione fortemente critica, stiamo perdendo gli elementi identitari del nostro progetto e del nostro lavoro, però parlando fra di noi, vedendo come molti di noi agiscono e si comportano, giornisti televisivi, radiofonici o di scrittura, mi rendo conto che questo è un problema di cui siamo sempre più consapevoli di noi, noi non riusciamo a risolverlo da soli, le tecnologie ci travolgono, la velocizzazione della comunicazione è indifferente alla qualità dell'informazione, cioè ciò che conta è l'atto comunicativo, il contenuto, il messaggio non gliene frega niente a nessuno, ci sono i giornalisti che muoiono per la qualità del messaggio, per riprodurre un possibile accertamento della verità. Soltanto nel 2015, correggimi, 119? Non tutti in guerra, perché sono morti in Messico, in Colombia, in narcotrafico, in situazioni di pericolo grave, di guerriglia. Ma il giornalismo è questo, se il giornalismo non dà fastidio ai poteri, quale che essi siano, non è il giornalismo, il giornalismo nasce per questo. Sì, però tu scrivi dove non arriva Daesh o Isis, chiamiamola, ci pensano i poteri della nostra società, più o meno forti. Non c'è giornalismo se non c'è verifica dell'informazione, si diventa container di un messaggio guidato da altri, questo diventa sempre più, paradossalmente difficile, perché le fonti di informazione ci sono mille, soltanto che Internet, mi fa piacere poter parlare di Internet, Internet è una prateria straordinaria, è un orizzonte aperto dove c'è tutto, è uno spazio libero dove non hai alcuna certezza della selezione e sempre più il quantum, i numeri sostituiscono il quale, cioè il fatto che ci sia un sito nel quale vada un miliardo di persone o un milione di persone e un altro che ne abbia soltanto 100 mila, dà un elemento di qualità al numero che non sempre corrisponde alla realtà. Allora il problema di fondo è proprio quello, i giornalisti che utilizzano giustamente Internet come fonte di informazione debbano produrre la conoscenza, costruire la conoscenza che ciò che conta è la selezione, tutte le fonti sono interessanti. Sì, ma anche andare a verificare sul campo, anche solo per lasciarsi schiaffeggiare da questa umanità ferita che altrimenti sulla rete, sì la leggi, ma non è la stessa cosa, tant'è che siamo tutti indifferenti. Noi che raccontiamo la realtà, siamo seduti in redazione a vedere la realtà attraverso il filtro del computer, la realtà è fuori dalla finestra, lì passa, ma noi non la guardiamo, la guardiamo soltanto attraverso il filtro del computer e dell'Internet e lì è il gap che si sta realizzando. E poi c'è il rischio di diventare, come dicevi appunto, tu un container riempito da altri, un po' troppo embedded, sono tanti, troppi i giornalisti embedded adesso. Sì, sono embedded in guerra, ma sono embedded anche nella realtà di ogni giorno, come tu stesso suggerisci, non vedo dubbio. E purtroppo Capucinski diceva, noi siamo stati quelli che siamo stati orgogliosamente, oggi sempre più il giornalismo è il mestiere degli impiegati dell'informazione. C'è una svolta possibile per l'uomo, perché poi qui la questione è antropologica, non è legata al giornalismo. Non voglio entrare in territori estremamente pericolosi, con corpi pericolosi di quelli che affronto, però dico che una delle ragioni per le quali vado all'università è cerco di tenere dei corsi ai ragazzi. Tutti questi ragazzi che sognano di fare i giornalisti in maniera eroica? Certo, è vero, soprattutto tanti anni fa, oggi con minore idealismo, con maggior consapevolezza, ma vado soprattutto per tentare di trasferire in loro questo rispetto del codice della verità che mi ha sempre accompagnato, me come tanti altri colleghi. E allora vedo che alla fine del corso sono orgoglioso di questo, che hanno voglia di venire a salutarmi, di parlare con me e di ringraziarmi per ciò che hanno appreso, che non è soltanto il sapere generico di cos'è la notizia o di cos'è la costruzione di un giornale, ma l'acquisizione della consapevolezza che tu hai in mano, tu giornalista o tu che vuoi fare il giornalista, ha in mano qualcosa di straordinariamente potente, che non è soltanto la costruzione della conoscenza, ma è la costruzione della realtà. Qualche tempo fa leggevo in America un supplemento di un giornale di un quotidiano, dove il titolo era, il tuo titolo era You are what you read, tu sei ciò che leggi, ma ciò che leggi non soltanto in ciò che hai scritto, ciò che legge la realtà. Quindi se io ti comunico questa realtà in termini esatti, costruisco di te una forza, una consapevolezza che null'altro ti può dare. Potremmo citare il titolo di un libro tuo, I reporter di guerra, storia di un giornalismo difficile da Hemingway a Internet, però ci si allena a leggere la realtà anche leggendo, tu sei un divoratore di libri? Sì, credo che sia, la cosa che mi chiedono sempre tutti, come si fa a fare il giornalista? Leggendo, dico la cosa importante, non vi altro, devi leggere, perché se poi hai la voglia anche di comunicare, perché si può leggere senza voler comunicare, ma se hai la voglia di comunicare, cioè l'atto testimoniale di cui parlavi prima tu, io lo vivo soltanto come l'opportunità per poter comunicare con altri ciò che ho visto, io sono gli occhi degli altri, banale dire il retorico, però io ho sempre portato con me la consapevolezza di non essere io, di essere uno strumento, per questo sono fortunato, di avere la possibilità di trasformarmi in uno strumento che ha poi una ricaduta sulla società, la società è una parola molto amara, molto difficile, molto complessa, su tutti, sulla gente, lo dico con rispetto. Tu hai una scrittura molto asciutta, molto puntuale, non concedi nulla alla retorica, non concedi nulla al sentimentalismo e io credo sia un valore grandissimo, ed è il valore di chi vuole essere testimone, ora tu sai benissimo che testimone in greco si dice martir, martire. Sì, però voglio dirti… Che legame c'è? Io resto sconcertato, talvolta un po' sorpreso e anche ammeriggiato per ciò che amo del mio mestiere, a vedere come alcune delle corrispondenze di oggi della guerra sono, se dentro la guerra, io ricordo sempre, tutti noi ricordiamo uno straordinario attacco di un pezzo che esiste, Gian Paolo Panza dopo il disastro dell'Ongarone, vi scrivo da un paese che non esiste e raccomando il paese, non raccontava se stesso, oggi per via della capacità rappresentativa che ha la televisione, per questo processo di personalizzazione che spinge all'estremo, sempre più il giornalismo di scrittura sta mettendo se stesso, il giornalista all'interno del racconto, quindi non esiste la guerra o la realtà, ma esiste io che guardo la realtà, no, questo non è corretto. Allora come ti puoi misurare su questo? Cercare di avere una scrittura la più contenuta possibile, cioè si può fare giornalismo soggettivo, come appunto dicevo di reportage soggettivo, come dicevo di Panza, però mantenendo una scrittura tale che ti consente di avere un distacco costante dalle cose, in modo che gli altri vivano ciò che tu stai raccontando, non sei tu che sei il protagonista di ciò che racconti e questo è un rischio che il giornalismo sta assumendo, io cerco di evitarlo, attraverso una scrittura la più contenuta possibile. Il desiderio più grande che hai? È la domanda più banale, però noi tutti siamo chiamati a rispondere a questa domanda, che è la forza più grande che abbiamo nel cuore. Sì, questo non è un libro su un tumore, questo è un libro sull'affermazione, la costruzione della consapevolezza che abbiamo tutti dentro di noi, un'energia che spesso dimenticiamo. Voglio dire, una volta avevamo la coda noi, avevamo la coda, adesso la coda è diventata l'ultima vertebra, perché? Perché non ci serve più? Avevamo un udito, una vista, un olfatto straordinario, perché avevamo in un mondo selvatico, difficile, pericolosissimo, rischioso e quindi dovevamo tutti avere i sensi all'estremo, al punto più alto per poter difenderci. Oggi non abbiamo bisogno, ci sono 100 strumentazioni e 100 strumentazioni ci rendono anche il nostro rapporto con l'ecosistema nel quale ci muoviamo, anche più facile, più fluido e quindi dimentichiamo di avere una capacità dentro di noi di affrontare le condizioni di crisi, ma che sia il cancro certamente, o che la guerra, il cecchino che ti sta sparando, la cannonata di terreno, ma che sia qualsiasi condizione critica che noi possiamo avere e ci accorgiamo che se noi recuperiamo dentro di noi questa forza, riusciamo ad ottenere cose che mai avremmo immaginato possibile. Non per nulla oggi le neuroscienze stanno aprendo territori straordinariamente interessanti sul rapporto tra psicologia e fisiologia, cioè il nostro cervello ha una capacità di intervento, di cui la misura ancora non è affatto nota, ma tutti sanno che vi è un potenziale. A me piace Mimmo Candido perché dici queste cose mantenendo però un forte senso di umiltà, non c'è la tracotanza di chi crede da sé di riuscire a dominare le cose, è vero che questa forza dentro rischiamo di perderla se non ne facciamo uso. Di non sapere che l'abbiamo, di dimenticare, non c'è la tracotanza di sé perché, perché sono alto rispetto alla media. Non hai bisogno. Come te che sei, chi è più alto, sa che non ha bisogno di mostrare chissà quale arroganza, io sono così. Ma no, ma no, questa è una bella battuta, ma conosco un sacco di persone alte e arroganze. Ah sì? Dimmi una musica che ami moltissimo e che vorresti come colonna sonora di questa nostra chiacchierata, che la usiamo per chiudere e salutarci. Mi venirebbe a dire con molta retorica la locomotiva di Cucinato, perché è la mia generazione. Ma dai, è lunghissima, la sappiamo tutti a memoria. Certo, però in questo momento mi viene in mente una cosa, tutti siamo le nostre radici, lo dico nel libro, tutti siamo ciò che abbiamo vissuto e allora è povero rispetto a ciò che si può immaginare, però è forte. Il pensiero della canzone che apprendevo da ragazzo quando ero giù a Reggio Calabria, Calabriselda Bedda, la dico male perché ho perso il dialetto, per ora è il senso dell'identità. Noi siamo dei rasinei, un po' tutti, non perché da Reggio siamo stati a Torino perché dalla Siria andiamo a finire in Germania, siamo dei rasinei perché spesso perdiamo la relazione diretta con le nostre radici e con ciò che noi siamo. Allora mi farebbe piacere che ci fossero queste parole sullo sfondo, è un modo per recuperare un senso, acchiappare la mia vita. Facciamo amore, grazie. Grazie davvero. Grazie. Grazie. Grazie.